Dopo sei mesi arriva a conclusione la mostra di Giacomo Verdi al Cameche della Spezia, una macchina del tempo che ci ha portati negli anni Ottanta e che non si concluderà semplicemente tirando giù e spegnendo un interruttore, ma si concluderà con ben tre giorni di performance. Che bella definizione, una macchina del tempo per la mostra su Giacomo che è stato un grande tecnoartista, un artista che usava tutte le tecnologie dagli anni Ottanta in poi, ha sperimentato qualunque tipo di tecnologia, ha fatto la video art, ha fatto installazioni digitali interative e la mostra porta una testimonianza di tutte queste tracce, anche tracce dei supporti, VHS, di tutti i materiali che oggi magari non riusciamo più a vedere. Ma quello che ci interessa è riportare quell'arte degli anni Ottanta e degli anni Novanta oggi, per renderlo in qualche modo vivo, il suo messaggio, il suo pensiero e la sua estetica. E torna appunto oggi, anzi in questi giorni, con il Finissage l'11, 12 e 13 gennaio. E qual è il programma di questi tre giorni? Abbiamo deciso di fare una cosa tra il teatro, la visita guidata che naturalmente deve esserci all'interno della mostra e poi proprio il vero e proprio Finissage con un ricordo dell'artista da parte di chi lo ha visto più da vicino, amici, amici artisti. Tra questi anche la banda Osiris, verranno alcuni componenti della banda Osiris perché Giacomo Verde, prima di essere tecno-artista, è stato un artista di strada, un teatrante. E ha fatto parte della banda Osiris e suonava la Gran Cassa. E ha fatto anche teatro per ragazzi, teatro con le marionette. Quindi alcuni di questi artisti saranno presenti a portare un ricordo. Questo avverrà il 13, mentre invece l'11 sarà Annalisa Maggiani con una performance di Dan Sabuto con il videomaker Mario Morleo a fare un omaggio all'ultima performance di Giacomo Verde che era il Piccolo Diario dei Malani, in cui raccontava la sua malattia che poi lo ha portato purtroppo alla morte nel 2020. Abbiamo ricordato la scomparsa di Giacomo Verde che però non è stato solo artista, non ha utilizzato l'arte solo come fine a se stessa. Una bella definizione che dava di sé era quella di essere un artivista, quindi un attivista dell'arte. Era importante il suo impegno sociale e politico. Nei giorni del Giotto di Genova ha realizzato un documentario bellissimo, Solo Limoni, che noi abbiamo trasmesso proprio al museo il 20 luglio. Quindi anche un messaggio dai contenuti fortemente politici e fortemente attivisti.